Da lunedì 11 gennaio l'Italia rientra in zona gialla, ad eccezione di cinque regioni ancora in zona arancione, cioè Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Intanto, mentre in Valle d'Aosta, Toscana e Abruzzo riaprono le scuole superiori, il governo è a lavoro su un nuovo provvedimento, il primo del 2021, con nuove limitazioni e misure per contrastare la Movida, tra cui il divieto di asporto dopo le 18 per i bar e il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle. Tra le possibili novità, inoltre, l'introduzione di una zona bianca, raggiungibile solo con un R-T inferiore a 0.5, in cui riaprire tutto senza limitazioni e la possibilità di far scattare automaticamente la zona rossa nei territori in cui si superi il limite dei 250 contagi per 100.000 abitanti. Lunedì 11 gennaio sono tornati in classe gli studenti di tre regioni, si tratta di Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo, che vanno ad unirsi a quelli della provincia autonoma di Bolzano e di Trento, che erano rientrati il 7 gennaio. Tutte le altre regioni hanno invece deciso di rinviare il rientro in classe e di continuare con la DAD, in attesa di scoprire l'andamento della curva epidemiologica e verificare un'eventuale impennata di nuovi casi di Covid dopo le feste. Al momento il programma provvede al rientro per il 18 gennaio di Molise, Puglia, Lazio, Liguria e Piemonte. Il 25 per Campania, Emilia Romagna, Umbria e Lombardia. Infine il 1 febbraio riaprono le classi di Calabria, Veneto, Sardegna, Friuli, Venezia Giulia, Sicilia, Marche e Basilicata. A dispetto di quello che si potrebbe dedurre vedendo i numerosi tweet e post che rimbalzano sui social media, l'opinione pubblica italiana su Twitter è più favorevoli ai vaccini che contraria. Questo quanto emerge da uno studio dell'Università di Pisa pubblicato sulla rivista IEE Intelligent Systems, condotto da quattro ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Alessio Becchini, Pietro Ducanze, Francesco Marcelloni e Alessandro Renda, che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare l'opinione di circa 30.000 utenti. Questi si sono espressi in 100.000 tweet pubblicati da settembre 2016 a giugno 2017, selezionati attraverso una lista di keywords come hashtag io vaccino e rischio vaccinale. Dalla ricerca è emerso che gli utenti italiani a favore dei vaccini sono leggermente superiori a quelli contrari. Con il ritorno in zona gialla per tutta Italia, i ristoranti e i bar possono riaprire fino alle 18. Secondo le stime della Coldiretti, il lungo lockdown, che ha compreso anche il periodo di festa, ha causato una perdita di circa 750 milioni di euro solo per la cancellazione dei tradizionali pranzi e cene ogni di Natale e Capodanno. I consumi fuori casa degli italiani per colazioni, pranzi e cene sono crollati del 48% nel corso del 2020. Questo ha portato molte strutture a decidere di non riaprire, con il calo d'affari dovuto all'assenza di turismo, allo smart working e alla diffidenza ancora presente tra i cittadini con l'avanzare dei contagi da Covid.